Riparte la mobilitazione contro il caro pedaggi sulle autostrade a 24 ed a 25. In una nota affitta a CNA si mostra preoccupata poiché il 1 gennaio potrebbe scattare il rincaro del 26% a danno non solo degli autotrasportatori, spiega William Facchinetti, anche degli automobilisti, soprattutto dei pendolari che si trovano a percorrere l'autostrada per Roma. Le cose stanno che dopo gli evidenti problemi che stiamo vivendo quotidianamente in A14 si è aggiunta anche un'ipotetica stangata di addirittura il 26% che potrebbe abbattersi sugli abruzzesi da partire dal 1 gennaio del 2021. Parliamo di cifre importanti, soprattutto se pensiamo a un autotrasportatore che con un camion per andare a Roma e tornare oggi spende circa 100 euro, arriverebbe a spendere oltre le 120 euro. Sono cifre importanti che non permettono quella ripartenza di cui tanto si continua a parlare, sono cifre che noi non possiamo accettare e faremo di tutto, tutto quanto quello che è nelle nostre possibilità affinché non si verifichino questi aumenti. Tra l'altro avete l'appoggio anche dei sindaci? Sì, come è successo negli anni scorsi, il territorio si mobilita perché ciascuno cerca di fare gli interessi dei propri cittadini e so che anche i sindaci, come è già successo negli anni passati, si stanno organizzando e noi saremo sicuramente al loro fianco per difendere gli abruzzesi da questo ingiusto, noi riteniamo ingiusto, ingiusto salasso. Soprattutto chiediamo ai decisori pubblici, tecnici e politici, quindi sia ai commissari che sono stati nominati dal Consiglio di Stato per la gestione dell'affare A24-A25, sia ai parlamentari abruzzesi, al Presidente della Regione, a tutti coloro che possono esprimere una voce in capitolo, di attivarsi immediatamente. A tutt'oggi l'aumento ci sarà dal primo gennaio o è solo un'ipotesi? No, quello che è stato detto dal Vice Presidente Fabris è un'ipotesi che si concretizzerebbe dal primo gennaio 2022 ma che deve essere formalizzata entro il 31 ottobre di quest'anno, per cui ci sono ancora dei tempi e dei margini per intervenire e per far sì che questo non si verifichi. Dopodiché sta al buonsenso delle parti e alla capacità della macchina amministrativa di essere efficace ed efficiente.